Dal Patalano di Accameno, venerdì di allenamento per la squadra rossonera Angelo Iervolino. Sembra, anche dopo questo ricorso, è arrivata un'altra vittoria, un momento veramente felice per la tua squadra? Siamo in un momento che ci dà soddisfazione, un momento che ovviamente ad oggi avremmo probabilmente firmato tutti. Il mese d'agosto per avere questi punti, quindi sicuramente è un momento felice. Non dobbiamo adagiarci perché i momenti brutti sono sempre dietro l'angolo. Anche perché proprio ad inizio campionato ci fu una situazione del genere e poi un lungo momento negativo che siete stati però in grado comunque di superare alla grande? Beh, assolutamente. Noi abbiamo, come all'inizio, abbiamo fatto un percorso importante all'inizio del campionato. Poi dopo c'è stato un momento di flessione, un momento di flessione dovuto a tanti fattori, al campionato, al fatto che comunque gli avversari avevano preso un po' di misure. E questo potrebbe, diciamo, ricapitare. Noi siamo ora nell'ordine delle idee che comunque ogni partita dobbiamo giocarci al massimo, quindi cercare di essere sempre pronti a qualsiasi evenienza, a cominciare già da domani. Una partita che vedrà l'Acquameno impegnato in casa del San Sebastiano, un'avversaria non esattamente irresistibile ma che però merita certamente grande attenzione. Sì, beh, l'Ischia già, prendiamo l'Ischia diciamo come esempio perché l'Ischia ci gioca due partite prima di noi ogni partita, quindi l'abbiamo vista la gara e ha fatto fatica, diciamo, a sbloccarla. Quindi è una squadra tignosa, una squadra che ha bisogno di punti necessariamente, lo fa in casa domani, quindi deve per forza metterla, diciamo, su un piano importante per poter portare a casa la vittoria per prendere aria. Dal canto nostro andiamo là fuori casa cercando di essere un attimino equilibrati, un attimino attenti a quello che può accadere e di fare, diciamo, necessità virtù per quello che poi il campo ci possa dare.